Ciao a tutti, bentornati sul mio canale, benvenuti in questo nuovo video, oggi vi parlo di una nuova notizia di calciomercato è l'ora ufficiale, Lorenzo Venuti è un nuovo giocatore del Lecce prima di cominciare a parlare vi chiedo di lasciare tanti pollicioni su, iscrivetevi al canale qualora non l'aveste già fatto e fatemi sapere con un commento la vostra su questo acquisto quindi Lorenzo Venuti, 28 anni, è un terzino destro ma può ricoprire tutti i ruoli della fase difensiva quindi anche fa il terzino sinistro e all'occorrenza può anche ricoprire il ruolo di difensore centrale quindi un giocatore molto utile per lui si tratta di un ritorno in Salento perché è vestito già la nostra maglia nella stagione 2018-2019 in Serie B ha giocato 32 partite e ha segnato 3 gol invece contando e osservando tutta la sua carriera ha disputato 296 partite ha segnato 7 gol e ha fornito 13 assist vanta più di 100 presenze in Serie A fatte tutte con la maggior parte diciamo con la maglia della Fiorentina con cui ha anche accumulato varie presenze nelle competizioni europee fatti specie appunto la Conference League competizione in cui la Fiorentina l'anno scorso arrivò in finale purtroppo perdendo quest'ultima proprio contro il West Ham squadra inglese spero che Venuti possa rilanciarsi o meglio riconfermarsi con la maglia del Lecce diciamo che l'esperienza della Fiorentina poteva andare molto meglio i tifosi non hanno diciamo un bellissimo come posso dire giudizio nei suoi confronti però appunto speriamo che possa essere utile la causa diciamo che adesso sulla fascia destra stiamo a posto ma attenzione dobbiamo essere vigili e attenti perché ci sono tante squadre che stanno vegliando Jean Drey quindi potrebbe anche capitare che magari un giorno arrivi una squadra facciala a fondo decisivo e quindi noi dobbiamo ributtarci sul mercato per acquistare un altro terzino quindi dobbiamo appunto stare attenti adesso la priorità è comprare l'attaccante si era parlato di Shomurodov diciamo non mi fa impazzire però comunque sia è un giocatore che sicuramente ha talento è stato un po' sfortunato anche con la mare delle ospezie ma magari nell'ambiente così infuocato del Salento potrebbe veramente dire la sua e ovviamente anche bisogna sciogliere il noto portiere quattro sono i nomi Drongoschi, Sepe, Cragno e Vladimiro Falcone qualche giorno fa è uscita la bomba di mercato secondo cui Lecce sarebbe tentando di riportarlo dalla Sampdoria il Vladimiro non sarebbe contento di rimanere in Serie B e Lecce sembrerebbe essere l'unica squadra vogliosa di acquistarlo per ora quindi questa notizia prendetelo con le pinze perché nel calcio mercato veramente può succedere di tutto intanto godiamoci l'arrivo di Lorenzo Venuti io vi ringrazio per aver visto questo video forse a Lecce sempre e buona giornata a tutti voi ciao